amiche amici siamo in diretta cominciamo insieme questa nuova settimana qui sul canale 14 antenna sud con tutti gli strumenti per guardare i nostri format pomeriggio sud parte tra pochissimo tra le altre cose parleremo anche di cardiologia aperte un evento incontri particolari per la salute del nostro cuore stanno per entrare i dottori per capire i particolari su quanto c'è da fare anche sulla prevenzione ma attenzione a proposito come sempre a un certo punto della premessa io raccomando perché ci sono altri argomenti anche quindi parleremo di insegnanti parleremo di dottorandi parleremo di metodo il metodo della scuola italiana è efficace ve lo siete chiesti perché gli studenti potrebbero in poco tempo rispetto a prima memorizzare determinate nozioni per imparare prima al di là di questo poi ci occuperemo anche di musica e entrano in collegamento con noi sono tre in realtà però due avremo in collegamento ex ragazze di non è la rai perché è leonora daniele collega giornalista rai di storie italiane ha scritto per loro un bel pezzo musicale ce ne parleranno lo faremo ascoltare però adesso c'è la sigla restate qui buon pomeriggio su da tutti il segreto è nel cuore parte da oggi la diciottesima edizione di cardiologia aperte alla campagna nazionale per la salute del cuore per la prevenzione delle malattie cardiovascolari gli esperti saranno a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni tutti i chiarimenti sulle malattie cardiache a disposizione anche un numero verde dedicato attraverso il quale è possibile fare tutte le domande del caso oggi 12 febbraio la giornata relativa alla fibrillazione atriale domani cardi oncologia e cardi oncologia di genere ma l'evento ci sarà anche mercoledì 14 febbraio ci sarà giovedì venerdì insomma ne parliamo adesso con i nostri ospiti parto in ordine silvia costanzo psico oncologa benvenuta grazie grazie a te francesco benvenuto al direttore di cardiologia dell'istituto rirks appunto giovanni paolo secondo stefano oliva benvenuto direttore grazie grazie buon pomeriggio a tutti ecco un po ho anticipato ma esattamente a tra l'altro un incontro e proprio in questi minuti sta ancora procedendo giusto sì certo è una settimana è una open week come si dice una settimana che è la fondazione per il tuo cuore annualmente dedica e intitola cardiologie aperte e sono incontri che si svolgono all'interno delle cardiologie italiane con il patrocinio della fondazione per il tuo cuore e dedicate essenzialmente alla comunicazione tra medico e paziente domani la giornata è dedicata alla cardio oncologia che una nuova materia nella quale noi all'istituto oncologico ci interessiamo in maniera particolare quindi insieme alla direzione al direttore e l'avvocato alessandro delle donne abbiamo voluto comunque organizzare questo evento che abbiamo voluto chiamare insieme nel quale noi medici dell'istituto oncologico di bari incontreremo i pazienti e associazioni dei pazienti per parlare di cardiologia di come approcciarsi alla malattia oncologica senza tralasciare l'importanza di mantenere sano il proprio cuore esatto chi li può partecipare tutti possono partecipare tutti e ovviamente dedicato in maniera particolare agli pazienti e alle associazioni dei pazienti con i quali sarà fatto ci sarà un colloquio a più mani molto colloquiale molto amichevole abbiamo inteso non organizzare un convegno medico vero e proprio perfetto vado dalla dottoressa a questo punto dottoressa silvia costanzo invece psico oncologa si occupa sempre del cuore ma in senso come sfera affettiva nella malattia dottoressa quanto sono importanti le relazioni come cambiano poi e che cosa possiamo fare per salvaguardarle le relazioni sono fondamentali sono fondamentali sempre in qualunque momento della vita delle persone ancora di più quando si incontra la malattia oncologica e in realtà la scienza ci dice quello che sapevamo già no da un punto di vista strettamente umano ci dice che le relazioni la qualità delle relazioni sociali delle persone che poi incorrono in malattia oncologica è strettamente correlata anche alla sopravvivenza dei malati oncologici alla qualità delle cure ricevute e addirittura alla qualità di vita per cui oltre che alla compliance ovviamente con i trattamenti è ovvio che le relazioni cambiano come cambiano sempre nel ciclo vitale cambiano in particolar modo in relazione allo tsunami che rappresenta la malattia oncologica nella vita di ogni paziente noi come facciamo ad alzare voi professionisti qual è l'input che date per alzare questa famosa qualità della vita l'input che diamo per alzare la qualità della vita anzitutto è il l'informazione che il servizio di psico oncologia è disponibile praticamente in tutti i servizi di oncologia ed è un diritto dei pazienti a cui ancora i pazienti spesso e volentieri non sanno di poter avere diritto nei pazienti nei loro familiari invece c'è questo questo diritto rivolgersi allo psico oncologo per incrementare la propria qualità di vita nel senso di incrementare la propria capacità di volersi bene nonostante quello che sta accadendo anche perché direttore quanto importante il cuore nelle terapie oncologiche è fondamentale fondamentale soprattutto mantenere inalterata la salute cardiovascolare nei pazienti oncologici perché oggi sappiamo grazie a dio che del gran parte dei pazienti diventano lungo sopravviventi cioè sperimentano una fase nuova della vita una vita dopo la malattia che spesso può essere minata da problematiche cardiologiche ci sono tutta una serie di studi che hanno dimostrato l'esistenza di strette relazioni tra le malattie oncologiche e le malattie cardiovascolari quindi è fondamentale occuparsi della salute del cuore prima durante e dopo la fine delle cure oncologiche tutti hanno bisogno torno sulla dottoressa della psico oncologa anche in fasi tra virgolette più leggere tendenzialmente tutti o almeno la stragrande maggioranza richiede un sostegno psico oncologico non nel momento in cui c'è la fase acuta di malattia cioè non nel momento in cui si devono fronteggiare gli interventi le terapie perché lì tutte le energie psichiche dell'individuo sono appunto concentrate per concentrata nel fronteggiare il momento invece proprio quando le terapie un pochino si abbassano si abbassa l'intensità del del momento allora c'è da fare i conti con quello che è successo dal punto di vista psichico e lì molto spesso c'è la necessità di rivolgersi allo psico oncologo ora che tutti vi facciano riferimento no è una libera scelta per fortuna ma questo rappresenta anche il discrimine quando si sente la necessità significa che c'è veramente bisogno di farlo immagino di sì ma quanto è importante che il paziente l'utente riponga una certa fiducia sul medico che lo deve curare così spieghiamo bene agli amici a casa soprattutto alle persone che hanno problemi e che ci stanno guardando è fondamentale la relazione medico paziente assolutamente fondamentale fondamentale nel percorso di cura l'affidarsi al professionista ma anche la capacità poi del professionista di riuscire ad essere consapevole delle proprie emozioni in relazione a quello che sta succedendo al paziente e quindi di accogliere anche i vissuti terribili e devastanti del paziente davanti a una diagnosi che comunque apre veramente alla minaccia di morte davanti a sé per cui è fondamentale. Chissà quante volte invece il dottore il medico che poi è il direttore di cardiologia dell'IRCS Giovanni Paolo II avrà raccomandato e avrà detto lo stile di vita è importante mi raccomando l'alimentazione perché ciò che noi mangiamo insomma è tutto ruota a questi due elementi stile di vita e alimentazione direttore? Beh sono due elementi cardine, sono due elementi fondamentali. I pazienti non cardiopatici o senza fattori di rischio comunque hanno bisogno di mantenere vigile l'attenzione sugli stili di vita perché sono quegli stili di vita che sono quei fattori di rischio modificabili così li chiamiamo che possono incidere anche molto sulla probabilità che un evento cardiotossico così vengono chiamati possa manifestarsi anche nel lungo follow up quindi smettere di fumare ma soprattutto fare una vita sana che significa una sana alimentazione. Ci sono stati degli studi che hanno ribadito uno che è stato pubblicato su una delle più prestigiose riviste internazionali che ha dimostrato nel 2013 e ha sancito l'importanza della dieta mediterranea nella prevenzione delle malattie cardiovascolari così come l'attività fisica l'attività fisica aerobica che è un'attività fisica che va fatta a tutte le età può essere fatta a tutte le età anche non soltanto in età giovanile l'importante è che venga graduata in maniera come dire deve essere fatta costante e graduale in base all'età assolutamente sì e di questo anche ne parleremo domani con esperti della materia sia dell'aspetto nutrizionale che dell'aspetto inerente all'attività fisica. Che è importante, lei quante vuole? Anche una passeggiata, immagino che sono 60, 70 anni, 80 anni. La passeggiata di routine è indispensabile per salvaguardare la propria salute. Almeno 30 minuti di camminata a passo svelto tre volte alla settimana sono indicati come attività fisica utile a mantenere il corpo in salute perché l'attività fisica consente di abbassare i livelli di colesterolo, di glicemia anche per i pazienti diabetici, consente di mantenere basso anche i valori della pressione arteriosa quindi diciamo è un tocca sana per molti pazienti sia per i giovani che per gli adulti e anche per gli anziani. Anche perché come incide a livello neurologico ecco dal punto di vista di equilibrio mentale, dottoressa? Beh a livello neurologico, più che neurologico io direi che esiste una nuova branca della medicina. Psicofisico comunque. Sì che è la psiconeuroimmunologia che collega proprio il nostro stato d'umore con l'attività del nostro sistema nervoso centrale e l'attività poi del nostro sistema endocrino che ovviamente regola anche tutta una serie di funzioni cardiovascolari. Quindi è fondamentale nella prevenzione primaria che è quella proprio evitiamo che il tumore insorga. Questa è la prevenzione primaria. Fare attenzione allo stile di vita anche prendendosi cura del proprio benessere psicologico. Anche lo stress banalmente incide sulla genesi dei tumori e sulla genesi dei disturbi cardiovascolari. Per cui in questo senso è importante fare attenzione anche a questo. Poteva aggiungere qualche altro consiglio? Beh insomma lo dicevano i latini mens sana in corpo resano significa curare il corpo e curare la mente. Assolutamente le due cose vanno in parallelo. Perché la salute è anche un gioco di energie? Assolutamente sì perché sappiamo anche che mantenere il fisico allenato consente di prevenire una serie di malattie come diceva correttamente la collega una serie di patologie e anche le patologie oncologiche non soltanto le patologie cardiovascolari. Anche le patologie oncologiche risentono di una inattività fisica. Ecco a proposito invece di stile di vita ne abbiamo parlato pochissimi istanti fa e c'è altro che dobbiamo sapere? Per quanto riguarda gli stili di vita? Oltre all'attività fisica e quindi al mantenimento costante di un'attività del corpo. Assolutamente dicevamo l'attività fisica abbiamo detto ma un altro dei capisaldi dei fattori di rischio modificabili è il fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta è un elemento di rischio tanto per le malattie cardiovascolari ritorniamo sempre sul fatto che molti fattori di rischio sono comuni per le malattie cardiovascolari e per i tumori. Sia per i tumori la sigaretta incide sullo stile di vita del paziente e soprattutto incide anche sulla probabilità che un evento cardiovascolare, soprattutto un infarto miocardico possa manifestarsi. Oltre a essere ovviamente un fattore di rischio noto per molti tumori in primo luogo per il tumore al polmone. Le malattie più diffuse quali sono? In ordine nel mondo occidentale sono in ordine di frequenza sono proprio le malattie cardiovascolari poi dopo le malattie tumorali. All'interno delle malattie cardiovascolari la cardiopatia ischemica quindi l'angina pectoris e l'infarto miocardico e sono le due patologie i due risvolti della medaglia delle coronaropatie cioè della malattia aterosclerotica delle coronarie che sono i vasi che forniscono il sangue al nostro cuore. Molti hanno ricondotto ai vaccini questo problema. Secondo lei è vero? Può essere così? Assolutamente no. Devo dire che dagli studi che sono stati effettuati c'è stata una netta affermazione che valutando l'incidenza degli eventi cardiovascolari nei pazienti vaccinati rispetto a pazienti non vaccinati quindi in epoca pre-covid non c'è stato nessun incremento nell'era covid dei casi di malattie cardiovascolari né nella popolazione anziana né nella popolazione giovane. Quali sono in definitiva dottoressa Costanzo quei consigli che possiamo dare a casa? Rispetto allo stile di vita? Sì, allo stile di vita. Beh, tutto si gioca sul filo del benessere quindi riuscire a volersi bene e a settare la propria esistenza anche da un punto di vista strettamente comportamentale prima che affettivo sul avere verso se stessi uno sguardo benevolo e riuscire ad accettare i propri limiti e anche a semplicemente aderire alle raccomandazioni di stile di vita mediche rispetto per esempio allo smettere di fumare come diceva prima giustamente il dottor Oliva. Nell'Istituto Tumori noi disponiamo di un centro antifumo che fa terapie psicologiche con la dottoressa Bafuno, la collega, che fa terapie psicologiche proprio per incidere da un punto di vista comportamentale su quella che è una vera e propria dipendenza e che incide negativamente sulla salute muta invece. Certo. Allora, dove per preservare la sanità fisica, la sanità mentale che cos'è che dobbiamo mangiare direttore? Quali sono i consigli alimentari? Dicevamo della importanza della dieta mediterranea. Che oggi hanno stravolto, cioè la spacciano molti per dieta mediterranea, ma non è quella. La nostra dieta mediterranea... Poi si lamentano perché insorgono tumori e patologie varie. La nostra dieta mediterranea è una dieta che è ricca di frutta, è ricca soprattutto di verdura e soprattutto si giova degli effetti favorevoli degli acidi grassi polinsaturi come quelli dell'olio extravergine di oliva, che dovremmo imparare a consumare molto più degli acidi grassi saturi, quelli del burro, quelli dei grassi di origine animale che invece sono, noi diciamo, aterogeni, cioè in grado di indurre la comparsa di ateromi, cioè di placche che ostruiscono il deflusso del sangue a livello delle carotidi, a livello del cuore, quindi anche a livello delle coronarie. Fondamentalmente i capisaldi sono la frutta, la verdura e l'olio extravergine di oliva. Perché? Perché grazie ai polifenoli, grazie a tutte quelle sostanze... Assolutamente, sono i grassi buoni, i grassi che non si tramutano in placche, i grassi che non si depositano nelle arterie, i grassi che non danno aterosclerosi. Fate bene a spiegarlo, perché molti pensano il contrario, dicono no, no, il colesterolo non posso assolutamente mangiare, che ne so, un cucchiaio, stendere un cucchiaio nell'insalata o due cucchiai nell'insalata di olio extravergine di oliva, olio evo se non sbaglio, la stessa cosa, giusto? Allora, no, perché l'alimentazione prende a tutti quanti, quando parliamo di salute poi, io dico sempre, la sticella dell'auditel si alza, perché? Perché volete stare bene, fate bene, significa che quello che ha detto la dottoressa Costanzo praticamente lo volete seguire, lo stile di vita, la qualità della vita nasce e parte proprio da quello che noi mangiamo. Quindi, tornando invece alla carne, quante volte a settimana, secondo lei, e il secondo poi, quella che la ricerca per prevenire determinate patologie, in questo caso oncologico, cardiovascolari, bisogna mangiare? Allora, lungi dal voler demonizzare l'uso comunque delle proteine di origine animale, diciamo che la carne, soprattutto quella della carne rossa, non dovrebbe essere consumata in grandi quantità. Una volta alla settimana, una porzione alla settimana, potrebbe essere considerata sufficiente, potendo utilizzare invece, anzi, approvvigionarsi di proteine animali di maniera diversa, come quelle proteine che derivano dalle carni bianche, per esempio, o meglio ancora, dal pesce azzurro. Sempre per il discorso dei grassi buoni rispetto ai grassi, chiamiamoli meno buoni. Ok, mi mandate nel frattempo la locandina, la locandina dei loro incontri, dell'Istituto Giovanni Paolo II, perché fino al 18 febbraio prossimo, quindi fino a venerdì, ci saranno questi incontri, la giornata aperta dedicata alla cardiologia, insieme, dialoghi con e per i pazienti, sul cuore e quant'altro. Allora, il segreto è nel cuore. Qui ci sono scritte le date, sull'Edual non c'è, quindi non arrivo a leggere fin là, ma che cosa mi può aggiungere? Allora, che questi appuntamenti si svolgeranno nel nostro istituto, ma coinvolgono in tutta Italia tutte le cardiologie. Noi, le giornate dedicate sono oggi sulla fibrillazione triale, domani, ovviamente, noi dell'Istituto Tumori ci interessiamo di cardio-oncologia e cardio-oncologia di genere. La cardiologia di genere, invece, è... Prevista per mercoledì 14. È prevista per mercoledì 14. La giornata di giovedì è invece dedicata allo scompenso cardiaco e poi l'ultima giornata, quella di venerdì, è dedicata alla prevenzione dei fattori di rischio modificabili, quindi quei fattori di rischio che il lifestyle, lo stile di vita sbagliato, che può essere adeguatamente modificato per ridurre la probabilità di ammalarsi di cuore. Oliva, chi soffre di scompenso cardiaco? Ah, beh, lo scompenso cardiaco è una patologia cronica cardiovascolare che coinvolge sempre più pazienti, per due motivi. Vuoi perché sono sempre più... è sempre maggiore il numero dei pazienti anziani o comunque che arrivano ad età 80 anni, 82 anni, 83 anni. Vuoi come conseguenza e cronicizzazione di una patologia come per esempio una cardiopatia ischemica. Quando un infarto colpisce una quota rilevante di muscolo cardiaco, essendo il muscolo non ricostituibile ma rimane una cicatrice, quella cicatrice fa perdere al cuore la capacità di contrarsi, ne deriva una incapacità del cuore a svolgere appieno le sue funzioni, il complesso dei sintomi e dei segni che si accompagnano viene chiamato scompenso cardiaco. E in questo caso il tempo di azione è importante, indispensabile? Beh, sicuramente riconoscere una defiance contrattile del muscolo cardiaco, per esempio in cardio-oncologia, mi allaccio a quello che è la nostra attività principale e quindi la cura del paziente oncologico, ci sono alcuni farmaci che possono dare perdita della forza contrattile del muscolo e in quel caso agire precocemente, individuare il prima possibile i primi segni di una defiance cardiaca ci consente di intervenire in maniera mirata e di impedire al cuore di andare incontro a quella defiance che poi inevitabilmente compromette la qualità e la quantità della vita. Invece quando parliamo di fattori di rischio modificabili, a che cosa ci stiamo riferendo? Stiamo sempre parlando dei diversi stili di vita che si contrappongono invece ad altri fattori di rischio che non sono dipendenti dalla nostra volontà come il diabete, l'ipercolesterolemia o l'ipertensione arteriosa per i quali è vero che noi non scegliamo la malattia perché non è legato ad uno stile di vita ma è altrettanto vero che gli stili di vita possono incidere in maniera significativa sul controllo di queste patologie. Parlavamo dell'attività fisica e dell'abbassamento della glicemia, dell'abbassamento della pressione, dell'abbassamento della colesterolemia con l'innanzamento del colesterolo buono e la riduzione del colesterolo cattivo che l'attività fisica comporta. Bene, torno da lei psicologo Costanzo per far capire anche qual è l'atteggiamento nel momento in cui ci si scopre malati qual è l'atteggiamento che bisogna avere per, è vero che ognuno agisce a un modo proprio e in base, insomma, varia da individuo a individuo quella che è la reazione ad una notizia soprattutto se non così positiva ma, secondo voi esperti, quale dovrebbe essere e in che modo accettarla cerca, fa finta di non avere nulla? Beh, è vero, come diceva lei Francesco prima che davanti a una diagnosi così importante risente, risente, la reazione dell'individuo risente dell'infinita variabilità umana quindi ognuno ha la sua e ogni reazione è quella giusta ogni reazione è quella giusta per quel soggetto per quell'individuo in base alla sua personalità è fondamentale più che altro comprendere questa reazione cioè guardare alla persona all'interno della sua storia comprendere quella reazione davanti alla diagnosi al trauma della diagnosi all'interno della sua storia personale e personologica in base a quelli che sono, noi diciamo le strategie di coping della persona cioè come ognuno di noi ha imparato ad affrontare gli agenti stressanti e non c'è niente di più stressante della diagnosi di un tumore e anche nella società in cui viviamo non c'è niente di più stressante niente male evidentemente siete d'accordo bisogna stare un pochettino sì, a passo con i tempi ma non farsi prendere a questa vita frenetica che sono le persone stesse che magari vogliono rovinarsi la vita e di conseguenza cercano in qualche modo di velocizzarci ma siamo esseri umani non siamo un'identità digitale non siamo ancora noi l'intelligenza artificiale di cui si parla tanto in questo periodo esiste, sa Francesco, un'associazione tra alcuni stili di personalità e alcune peculiarità di personalità e poi l'insorgenza purtroppo è di patologie cardiovascolari e di patologie croniche tra cui anche il tumore per esempio noi abbiamo visto che le cosiddette personalità di stress personality cioè quelle con alta esibizione di emozioni positive e bassa esibizione delle emozioni cosiddette negative sono quelle che poi tendenzialmente implodono possiamo dire cioè anziché esplodere in un'esternazione delle cose negative che accadono le tengono tutte dentro e questa cosa incide anche proprio sul funzionamento del sistema endocrino del nostro apparato cardiocircolatorio e di come funziona il nostro sistema immunitario in questo senso quello che noi proviamo a fare con i pazienti è cercare di fare un'educazione emotiva cioè anzitutto impariamo ad accettarle tutte le emozioni anche quelle cosiddette negative ci servono tutte ci serve la paura ci serve la tristezza ci serve la gioia ci servono tutte le emozioni perché hanno un valore altrimenti quando siamo felici non capiremo perché se non proviamo un po' di dolore se non proviamo un po' di cose brutte lei non sa quante volte vengono da me pazienti a dire dottoressa levami l'ansia è come te la levo l'ansia ti serve l'ansia ti sta segnalando che c'è una minaccia quell'ansia ci serve per agire sulla minaccia tutti i segnali dell'organismo del corpo certo assolutamente sì l'ansia è la risposta fisiologica del nostro organismo davanti alla minaccia che ci permette di metterci in salvo quando la minaccia è esterna e la vediamo quando la minaccia è interna e non la vediamo è un po' più complicato ma ci si può ragionare prima di cambiare argomento torno sul direttore dell'IRCS Giovanni Paolo II perché voi avete messo a disposizione un numero verde l'ho detto ad inizio puntata 800 05 22 33 meno male che ho memoria per i numeri ce l'abbiamo sempre nella slide intanto perché soprattutto chi può chiamare possono chiamare tutti i cittadini tutti coloro che vogliono avere informazioni circa quelle patologie a cui saranno dedicate le varie giornate quindi dalle aritmie alla corretto stile di vita al discorso della cardio-oncologia e piuttosto che non dello scompenso cardiaco possono chiamare tutti per poter avere informazioni e per poter incontrare direttamente a seconda delle varie iniziative che le varie cardiologie anche nel territorio barese stanno stanno organizzando poter anche rivolgersi direttamente personalmente ai professionisti della salute ai cardiologi ospedalieri per poter avere un consiglio personalizzato bene grazie direttore grazie a voi grazie grazie alla psicologa Silvia Costanzo grazie andiamo per pochi istanti in pubblicità sto per cambiare argomento nella premessa vi ho anticipato per chi si fosse sintonizzato soltanto ora che il modo di istruzione è sempre protagonista perché poi da lì partono tutte le nostre vite quindi anche il segreto professionale è quello che uno fa per indole nel corso della propria esistenza allora pochi istanti e torno nelle vostre case qualora lo vogliate ben ritrovati in diretta in questo pomeriggio insieme pomeriggiosud chiocciolantennasud.com mi hanno scritto oggi non hai dato il contatto certo carissimi amici e telespettatori il nostro contatto per interagire intervenire con noi vi ricordo che siamo sul canale 14 Antenna Sud in diretta da lunedì al venerdì a partire dal 16.15 detto questo parliamo di istruzione nel mondo di istruzione ma anche di un bel lavoro che è sperimentazioni del metodo analogico questo libro che ha scritto con diversi dottorandi la professoressa però andiamo in ordine vado a presentare subito cioè a proposito di dottorandi come sta Guendalina? Benvenuta buon pomeriggio benvenuto grazie per l'accoglienza è un piacere essere con voi grazie a te Marco come sta? molto bene in piena luce grazie ti ringrazio per averci ospitato saluto anche la professoressa Giussi Antonia Toto coordinatrice Learning Science Institute e anche delegata appunto del rettore alla formazione insegnante e formazione continua voi siete dell'Università di Foggia? sì perfetto allora perché io abbraccio un pochettino tutte le università tutto il sud Italia praticamente quindi è giusto anche a non trascurare in quel di Foggia detto questo il libro nasce da sperimentazioni che sono state fatte da chi professoressa? in realtà da tutto il team del Learning Science Institute noi siamo 14 persone ma non c'è solo il gruppo di lavoro del laboratorio di Foggia ci sono anche docenti di Trento come il professor Ianes che è famosissimo è lo stesso autore ideatore del metodo che è il maestro Camillo Bortolato lui l'ha inventato l'hanno sperimentato a scuola ha avuto un grosso seguito e noi abbiamo provato a vedere la validità scientifica e non solo di questo metodo quindi questo metodo naturale darebbe diciamo quell'input di apprendere certo perché utilizza l'analogia come modello di insegnamento in realtà i primi risultati che possiamo spoilerare sono anche contenuti nel libro riguardano i tempi di apprendimento i bambini per esempio nella prima elementare che ci mettono solitamente nove mesi per imparare i primi venti numeri con questo metodo riescono nel primo mese già imparare tutta la numerazione quindi ha dei risultati sorprendenti una scuola un mondo dell'istruzione che se vogliamo si trasforma no? sì in qualche modo se il metodo cambia è perché quello che si utilizzava prima che cos'è? diventa obsoleto? in realtà ora mi sta tirando su una piccola polemica didattica sentiamo perché insomma televisione abita anche la polemica sì sulle metodologie didattiche innovative no? noi siamo portati a scuola a utilizzare metodi tradizionali concentrati solo ed esclusivamente sulla lezione frontale che è il seminario io le spiego delle cose lei mi ascolta e quindi questo sarebbe il metodo per eccellenza non esiste solo questo esistono tante altre metodologie tra cui quello analogico ma anche i laboratori attività di gruppo cooperative che servono a raggiungere altri obiettivi le faccio un esempio se posso se devo insegnarti l'empatia e te la spiego con una definizione non diventi empatico no? o sì? no se invece fai un laboratorio dove la sperimenta reagisci allora questo diventa cominci a sviluppare quelle che sono le tecniche per soft skill o questo tipo di competenza perfetto andiamo ai dottorandi perché anche loro hanno scritto un capitolo capitolo ciascuno Gwenda sì allora per quanto riguarda le nostre diciamo ricerche i nostri approfondimenti abbiamo un'alternanza nel senso che io in prima battuta mi sono occupato approfondito quello che è un costrutto psicopedagogico che è la motivazione nel senso che abbiamo provato a capire stiamo studiando come questo metodo porti a sviluppare una motivazione intrinseca superiore all'interno degli alunni e delle alunne proprio perché sappiamo dalla letteratura scientifica di riferimento che ad una buona motivazione intrinseca corrisponde un buon apprendimento al di là di tutte le componenti emotive alle quali faceva riferimento proprio prima la professoressa Toto quando ha parlato di empatia quindi proprio lo sviluppo di emozioni positive anche nella relazione che intercorre tra docente e studente in questo caso quindi abbiamo diciamo approfondito il metodo analogico attraverso proprio una lettura in termini di metodologia didattica innovativa andandola ad associare anche a quelle che sono delle metodologie che abbiamo anche studiato come problem based learning query based learning in questa diciamo ottica innovativa Marco allora diciamo che ognuno dei nostri ognuno di noi ha cercato di dare un taglio ad un metodo quello analogico che esiste da tantissimi anni è un taglio un po' innovativo potremmo dire il metodo analogico funziona in un modo tale che il bambino e la bambina si confrontano magari con uno strumento quindi un po' one to one quello che ho cercato di immaginare invece nel capitolo è un metodo analogico però cooperativo e ci riferiamo ad una metodologia ecco parlavamo prima di metodologie innovative una di queste è sicuramente il cooperative learning cioè l'apprendimento cooperativo che si basa su un costrutto che si chiama interdipendenza positiva per cui se io sto cercando di raggiungere un obiettivo però ho la responsabilità anche di una squadra tra virgolette che coopera con me e in un certo senso la motivazione per raggiungere l'obiettivo è più forte perché mi sento responsabile anche di quello che accade in tutto il team e quindi ho cercato di fare un po' questo fatto bene cosa posso dirti fatto bene questa sorta di istruzione il lavoro di squadra indipendentemente da tutto va sempre bene è vero che voi professoressa siete praticamente il primo Ateneo italiano ad adottare questo metodo sì noi siamo come Ateneo amici del metodo però esistono tante scuole che sono amiche del metodo e l'hanno accolto come strumento e canale privilegiato nella formazione e nella didattica noi come università siamo stati la prima università a sperimentarlo ma anche ad accoglierlo anche per un altro motivo noi ci occupiamo di inclusione di disabilità e questo metodo ha anche degli effetti positivi funziona anche sulle persone disabili sì su alcune disabilità non su tutte non è un metodo esatto dipende sempre dal grado di disabilità però per esempio con i ragazzi con autismo raggiungiamo buoni risultati in termini di apprendimento lei quindi che cosa sta notando questi quali possono poi essere gli altri scopi raggiungibili con questo tipo di metodo noi speriamo che la sperimentazione che ha già portato dei risultati nelle classi ci permetta di raggiungere gli stessi risultati anche nel contesto della disabilità che è quello che mi interessa un po' di più le dico sinceramente perché non mi occupo di didattica generale ma scusi cosa è successo? stavo cadendo stiamo perdendo la prova si scivola tutto ok? tutto ok vabbè non devo gesticolare no no mi sta in movimento all'improvviso prego prego allora noi ci occupiamo di didattica speciale non di didattica generale e quindi questo viene bisogna rialzarsi dopo una caduta quindi sempre sempre quello sì quindi questo ci serve e ci aiuta nel mondo della formazione e della didattica bene ragazzi che cosa è che possiamo aggiungere a proposito di formazione didattica? lo stiamo chiedendo da sempre qual è il metodo giusto quello vero per far sì che una studentessa uno studente apprendino apprendano senza grande fatica sicuramente bisogna andare a far sviluppare quella che è la cosiddetta metacognizione all'interno di ogni studente di ogni studentessa cioè insegnare far diciamo rendere conto dell'alunno dell'alunna del guardarsi cioè del come guardarsi un attimino dall'esterno è leggere quello che può essere il miglior metodo didattico a livello individuale proprio perché ciò che funziona per esempio bene per me in termini di apprendimento potrebbe non funzionare bene per Marco quindi cercare di formare innanzitutto gli insegnanti a formare i propri alunni a leggersi in un'ottica metacognitiva proprio perché non esiste il metodo ma attraverso le varie sperimentazioni noi proviamo con la guida della professoressa Toto a cercare di capire quelli che sono i metodi più adatti per una particolare dinamica per una determinata dimensione proprio perché bisogna sempre leggere proprio l'ottica individuale che è in ognuno di noi Marco guardi in generale quello che sta facendo la comunità pedagogica negli ultimi anni è proprio cercare di scardinare dei paradigmi che sono sempre esistiti noi abbiamo sempre l'immagine dell'insegnante dalla cattedra che è detta un po' legge lo studente la studentessa che devono obbedire in un certo senso se vogliamo le immagini un po' limitate limitante limitata è un rapporto verticale diciamo che è qualcosa che viene imposto dall'alto mentre invece tutte le metodologie didattiche innovative sono centrate sullo studente quindi una didattica un insegnamento che non solo valorizza la specificità dello studente della studentessa ma anche che lo coinvolga più attivamente proprio per attivare quei processi di motivazione che diceva Guendalina prima cioè se io voglio ottenere un obiettivo e non mi sento coinvolto nell'ottenimento di quell'obiettivo perché dovrei andare avanti nel mio percorso di apprendimento quindi è partire ma dovessimo dare un voto in pagella su questa istruzione nella nostra nazione l'Italia voi che voto dareste? parto da Marco visto che sono già su di te ah ok è difficile è un peso è un bel peso ma anche la scuola insomma si deve adattare ai tempi a proposito di metodologie professoressa io credo che in generale il problema sia un po' il peso citando degli autori insomma che mi vengono in mente siamo un po' in una società della performance dove spesso si dà molto peso alla performance e non al valore poi della persona cioè non al valore proprio dell'apprendimento come io mi sto formando perché voglio raggiungere degli obiettivi invece si dà molto peso alla performance cioè appunto anche questo dare un voto in pagella scusami se ti cito però sono qua apposta per essere citato non in giudizio no 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 in giudizio no per essere citato in tutte le polemiche tanto sono pronto per esempio anche questa cosa del meccanismo tremendo della pagella di sentirsi costantemente giudicati e giudicate poi alla fine secondo me è controproducente quindi io per ora come voto direi un non classificato perché speriamo di non classificato di cambiare ok Guendalina noi come faremmo senza giudizio del prof allora il giudizio ci deve essere cioè si parla sempre di valutazione ma dovrebbe essere una valutazione che va per l'appunto a giudicare tra virgolette naturalmente il percorso proprio perché noi tendiamo a darci come obiettivo finale come obiettivo ultimo molto spesso purtroppo magari dei parametri che però non tutti hanno la possibilità di raggiungere quindi bisogna innanzitutto capire qual è il punto di partenza del gruppo classe e poi comprendere quali sono grazie diciamo alle competenze alle abilità di cui ognuno di noi è portatore dopo si deve capire dove si può arrivare perché se io posso arrivare magari al 10 e Marco non riesce ad arrivare magari allo stesso livello perché ha una formazione di base differente dalla mia o viceversa naturalmente non si potrà giudicare peggio Marco rispetto a me semplicemente perché io magari ho delle competenze di base dettate dalle mie esperienze familiari amicali il contesto sociale in cui vivo che naturalmente saranno differenti quindi bisognerebbe un attimino andare a creare una lettura proprio del contesto del background formativo e diciamo individuale di ognuno e poi comprendere come andare a valutare è molto complesso il ragionamento che c'è dietro intanto sei stata chiara siamo fatti un'idea rispetto a quello che tu stai dicendo ma l'università italiana in definitiva riesce a soddisfare le esigenze dello studente riesce a far capire davvero che quello il percorso per i quali si è portati a Marco Marco io? sì ok sempre lo mando l'insegnante perché la vede dal punto di vista un punto di vista diverso ma voglio fare proprio un'analisi con voi che in qualche modo siete dottoranti allora sicuramente le università le università comunque mettono in atto dei processi di orientamento che per esempio su di me hanno funzionato nel senso che io sono stato attirato e attratto dalla mia università che ha messo in moto delle logiche delle dinamiche che mi hanno poi effettivamente accalappiato quindi hanno risposto a quello che tu volevi sì però ci sono poi delle iniziative sicuramente a livello nazionale anche no profit che cercano in un certo senso anche di fare un'attività di mentoring cioè che significa che mettono a disposizione dei servizi cioè magari una persona che ha già fatto l'università e ti spiega un po' che cosa si fa effettivamente all'università oddio che cos'è un credito perché magari uno arriva all'università e dice ma come funziona questo sistema dei crediti perché nessuno te lo spiega effettivamente a scuola molti sono a digiuno e quindi hanno questo ma alla fine lo stesso discorso che facevamo prima cioè perché per una scuola veramente innovativa si dovrebbe mettere più lo studente al centro cioè in maniera operativa è d'accordo la professoressa? sì ma su quale delle domande? su quest'ultimo aspetto cioè comunque lo studente dovrebbe essere sempre il centro interno principale quindi al centro dell'attenzione senza gli studenti non esiste la scuola e non esiste l'università quindi è ovvio che lo studente è al centro e bisogna partire da loro dai loro bisogni dai loro tempi dai loro delle loro scelte anche a livello universitario per poter costruire intorno a loro un percorso formativo corretto oggi si parla ma siamo in grado di farglielo capire noi scuola noi università di oggi siamo in grado davvero di mettere tutti gli strumenti a disposizione dello studente che so anche sulla creatività su quello che poi uno è propenso di fare nella vita teoricamente sì nella pratica è un pochino più difficile noi per esempio abbiamo organizzato degli hackathon che sono delle manifestazioni di 24 ore all'interno dell'università nella quale appunto sviluppiamo soft skill oppure competenze di creatività e gli studenti sono motivati e sono anche in realtà noi le orientiamo anche agli studenti della secondaria di secondo grado quindi del quinto superiore e poi scelgono a seconda di ciò che gli piace di più la disciplina dove iscriversi o il invece domanda personale a lei il mondo dell'istruzione di oggi le piace? se me la fa più specifica in generale per com'è composto sia l'università che la scuola primaria secondaria io cambierei qualcosina perché si può sempre migliorare no? perché voi state dentro quindi voi potreste dare l'input a chi poi decide i vari ministri insomma la società politica non esageriamo i ministri non ci ascoltano però che non ascolti non lo so cioè non arriviamo fin lì ma la televisione arriva per cui magari se mi ascolta sono qua allora ministro io farei una riforma anche dell'orario scolastico noi facciamo alla settimana 5 ore al giorno di lezione frontale per 5 giorni a settimana per 9 mesi non può essere l'unica attività didattica a scuola certo questa è una generalizzazione molte scuole fanno laboratori fanno attività di gruppo fanno attività didattica innovativa però se diventasse uno standard un po' per tutte le scuole riusciamo a cambiare il contesto perché questo tipo di attività rende la scuola meno nozionistica e anche legata ad altre competenze noi siamo chiamati a educare alle emozioni a fare educazione emotiva e possiamo farla all'interno di alcune discipline per esempio l'educazione civica potremmo rivoluzionarla anche in questi termini il discorso diciamo è complesso e lungo però si può partire per esempio dall'emotività legata ad alcune discipline Guendalina sei d'accordo con la professoressa? Sì ma perché sono riflessioni che noi abbiamo fatto nel corso diciamo di questi anni nel senso quando facciamo riferimento allo strumento alla metodologia didattica dell'hackathon o del bootcamp che effettivamente abbiamo portato avanti proprio grazie alle numerose intuizioni della professoressa abbiamo proprio avuto modo di toccare con mano proprio la reazione emotiva la reazione motivazionale degli studenti e naturalmente il discorso anche in termini di riforma naturalmente io non ho diciamo la possibilità né ancora la capacità di potermi esprimere in merito però partire da queste possibilità cioè di mettere in campo delle metodologie che portino gli studenti a riflettere e ad apprendere non solo attraverso un libro di testo che ci deve essere ma non deve essere l'unica strategia di apprendimento secondo me è fondamentale anche perché noi parliamo di un paese l'Italia che all'interno dell'Unione Europea è chiamata a raggiungere a promuovere determinate abilità determinate competenze ci sono un sacco di quadri europei che fanno riferimento alla formazione insegnanti ma poi nella pratica gli insegnanti non riescono ad attuarli per il semplice fatto che comunque sono diciamo circondati da incombenze burocratiche che chiede loro di raggiungere determinati standard a livello anche di programmazione didattica quindi è proprio un ripensamento generale secondo me invece Marco c'è un intreccio con la tecnologia abbastanza forte nella scuola italiana nella scuola nella scuola italiana comunque a livello per la scuola italiana c'è tanto ci sono tante iniziative sia a livello governativo c'è il piano nazionale per la scuola digitale ci sono convegni a livello nazionale che vengono organizzati ogni anno che discutono e dialogano su questi temi e devo dire che anche andando nelle scuole attraverso vari progetti c'è la tecnologia c'è a scuola c'è un'attenzione noi per esempio adesso stiamo anche lavorando ad un altro progetto magari un prossimo episodio ne parleremo più approfonditamente sul cyberbullismo che è un altro tema un altro tema che noi trattiamo spessissimo è la televisione in questo caso con programmi come questo ce ne sono altri però noi in primo piano ci battiamo perché parte tutto come dicevo nella prima parte dal mondo dell'istruzione perché è là che si formano i bambini che poi diventano adulti sì diciamo che il concetto alla base è se noi dobbiamo apprendere perché è necessario come leggere come scrivere come interpretare un testo cartaceo no classico perché non dovremmo imparare anche a riconoscere interpretare i testi digitali o altri media perché il medium non è soltanto il testo scritto il medium oggi più che mai è il video il podcast l'audio l'audiolibro qualsiasi medium deve essere interpretato nel migliore dei modi perché altrimenti poi ci sono le cosiddette fake news ci sono le interpretazioni e diciamo che non imparare ad interpretare i medium e a leggere la realtà anche digitale significa essere più manipolati manipolabili a livello generale quindi è importante anche diffondere questa capacità di manovrare il digitale e navigare nel digitale perché alla fine le scarpe le potranno fare soltanto chi sa utilizzare il digitale sì esatto esatto se impariamo a non avere paura della tecnologia per esempio non è l'intelligenza artificiale che fregherà l'uomo e chi saprà utilizzare il sistema sì esatto ma è come possiamo dire un po' l'uomo preistorico l'uomo preistorico che si è evoluto è quello che poi ha iniziato ad usare le tecnologie che ha imparato a usare il fuoco che ha imparato a usare la ruota tu usi chat GPT? io uso chat GPT certo è perché non mi faccio l'ingannare sì mi è capitato professoressa lei la utilizza? no io scrivo da sola lei è il vecchio metodo tradizionale giustamente altrimenti che cosa insegnerebbe è giusto no va bene io sono a metà perché riesce l'intelligenza artificiale dipende dal tipo di testo diciamo esatto chat GPT riesce comunque ad organizzare qualcosa va modificata va modificata però il lavoro lo riesce a fare e gli insegnanti la pensano molti di voi anche insegnanti la pensate diversamente ovviamente potete farcelo sapere perché ci sono dei contributi che noi di volta in volta di puntata in puntata possiamo selezionare proprio per parlarne approfonditamente allora io sto per cambiare argomento stanno per collegarsi con noi due delle tre ex ragazze di Nonella Rai che hanno registrato hanno realizzato un bel pezzo che ha un messaggio e lancia questo messaggio forte scritto se non erro quasi tutto da Eleonora Daniele la collega Rai di Storie Italiane ma c'è un altro autore che scrive i pezzi per il volo adesso ne parleremo scrive per il volo scrive per Orietta Berti va bene allora io vado a ringraziare voi potete anche rimanere là per il frattempo andremo in pubblicità grazie e state con noi perché ne abbiamo altre da offrire da proporre al pubblico a casa a tra poco eccoci qua allora prosegue la nostra diretta insieme parliamo di musica parliamo con due delle tantissime ex ragazze di Nonella Rai vado subito da Pamela Petrarolo Eleonora Cecere mandate ecco qua vedo già Pamela Pamela come sta? bene ciao ciao ti vedo bene ti vedo bene grazie grazie mille sono un po' stanca mi dispiace che è stata una giornata un po' tosta infatti anche la mia voce quando sono stanca si abbassa però insomma diciamo tutto bene ma più che altro perché io essendo una meteoropatica oggi con questo sole mi è tornato un po' il buon umore poi si è abituata alla televisione si è cresciuta col mezzo televisivo e quindi collegandoti con gli amici del sud Italia qui su Antenna Sud evidentemente eri ancora più felice l'hai fatto comunque con piacere è vero sì 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 che poi non è la prima volta che mi collego con voi se non è assolutamente assolutamente no ecco infatti diciamo a proporre sempre cose interessanti vedo anche Eleonora Cecere che anche a proposito anche lei di televisione ne ha fatta ne fa benvenuta Eleonora grazie buon pomeriggio a tutti ciao Pami ciao Eleonora noi stiamo fingendo perché c'eravamo già viste già viste prima se non erro avete avuto un altro collegamento con un'altra poco fa avete avuto un altro collegamento se non erro poco fa? no ma noi perché ci ci vediamo ah vi vedete vi vedete sempre abbiamo avuto sì 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 stamattina insomma diciamo che stiamo facendo parecchia parecchia promozione e quindi ci vediamo spesso o in video o o da vicino come si dice esatto intanto fresco fresco 12 gennaio è stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali questo nuovo singolo Sola Tu Mi Vuoi oggi è un mese che è uscito oggi è un mese che è uscito è già un mese vedi abbiamo fatto sì esattamente un mese sì neanche a farlo apposta è Sola Tu Mi Vuoi esatto esatto si chiama Sola Tu Mi Vuoi il pezzo come dicevi tu scritto da boccia con la partecipazione del testo di Eleonora Daniele siamo molto contenti di questo progetto e quindi insomma speriamo devo dire che sta andando perché comunque è già passato un mese non ce ne siamo neanche accorti quindi vuol dire che stiamo facendo tutto con il giusto impegno e la giusta concentrazione per portare a casa poi quello che speriamo noi sia un buon risultato contento contento per voi questo brano scritto tra l'altro da Francesco Boccia già autore per Orietta Berti e il volo c'è da anticipare che il vostro brano l'ho anticipato questo ritmo leggero però la tematica è importante e bella una tematica attuale un messaggio forte soprattutto per gli adolescenti ragazzi eh sì cerchiamo comunque di dare un messaggio sai questi amori tossici che ultimamente sembrano aver preso piede nelle adolescenti e quindi cerchiamo Eleonora Daniele con Francesco e noi tramite le nostre voci le nostre performance chiamiamole così cerchiamo di dare un un segnale cerchiamo di dare dei consigli attraverso questo brano alle ragazze cercando di fargli capire di non aver paura di aprirsi eh di alzare un pochino le antennine quando vedono che c'è qualcosa che non va o sentono che c'è qualcosa che non va e di non aver paura di parlare con nessuno perché anche quando ti dicono vediamoci per l'ultima volta e quello potrebbe essere già un segnale e quindi noi con questo brano cerchiamo comunque di farli aprire comunque di lanciare un messaggio ecco e speriamo di riuscirci noi diciamo sempre che se loro vogliono noi ci siamo ci trovano sui nostri canali social e se hanno bisogno di una mano siamo sempre pronte a indirizzarle dove loro a disposizione insomma hanno qualcuno che possa aiutarle ecco assolutamente Pamela qualcuno sul quale poter contare beh diciamo che in questi tempi bui mi viene da dire è anche dove ci si ferma poco a pensare a quelle che potrebbero essere davvero le conseguenze di un amore tossico di qualcosa che potrebbe essere l'ultima nostra volta per cui quello che dice Leonardo è vero mai fidati di quando ci danno un ultimo appuntamento però così almeno chiariamo molte storie sono finite proprio in quella modalità là allora ci sono noi siamo mamme di figlie femmine tra l'altro quindi viviamo proprio da vicino queste realtà per cui siamo terrorizzate che le nostre figlie possano incontrare delle persone sulla loro strada sbagliate poi per carità non generalizziamo ci sono anche dei bravissimi ragazzi bravissimi uomini ci sono delle mamme che hanno insegnato ai propri figli però come dico sempre io nella vita ci vuole un po' di fortuna perché io da mamma dico sempre io lancio l'input do degli esempi racconto quella che è stata la mia storia quello che mi hanno insegnato i miei genitori ma poi quando i nostri figli escono di casa a volte non sa cosa succede se sono dei caratteri che si fanno intimidire se sono dei caratteri che si fanno condizionare condolgere se sono delle anime fragili quindi è fondamentale far capire ai nostri figli alle nostre figlie amiche alle nostre figlie chiunque esso sia che i segnali vanno colti bisogna avere quella sensibilità di capire immediatamente se c'è un segnale che può essere qualcosa di devastante in un rapporto e questo brano in qualche modo ce lo fa capire ce lo fa intendere assolutamente sì perché sono sola tu mi vuoi è come dire io mi rifiuto di essere come dici te le imposizioni che ci vengono date fai questo fai quello quando ci tarpano le ali quando ci fanno diventare delle donne insicure quando ci tolgono le nostre sicurezze per cui i nostri sogni e quando una persona ti ama tutto questo non lo fa ti deve incitare ti deve appoggiare ti deve stimolare ti deve amare cioè l'amore per me è libertà a 360 gradi poi la gelosia la scaramuccia la preoccupazione quella è naturale è un altro esatto però da lì alla violenza psicologica e fisica ce ne passa assolutamente sì allora ragazze non siete qua in studio con me quindi non potete cantarla ma possiamo ascoltarla insieme a voi solo a tu mi vuoi sentiamo poi commentiamo dai che se non ti va io ti porto via con me anche dentro un bar ci si può sfrenare dai fammi ridere anche delle atrocità si dimentica si dimentica quanto sia importante non parliamo più non mi baci più sono sola perché sola tu mi vuoi sono sola perché sola tu mi vuoi sono sola solamente quando vuoi quando sono solamente fatti tuoi sono sola perché sola tu mi vuoi sono sola perché sola tu mi vuoi sono sola solamente quando vuoi quando sono solamente fatti tuoi Dai, ti ricorderai quello che ho fatto per te La mia dignità non la puoi comprare Sai, con la fantasia io mi sento ancora tua Ma questa armonia me la fai sognare Non ti piaccio più Non mi baci più Sono sola perché sola tu mi vuoi Sono sola solamente quando vuoi Quando sono solamente fatti tuoi Sono sola perché sola tu mi vuoi Sono sola perché sola tu mi vuoi Sono sola solamente quando vuoi Quando sono solamente fatti tuoi Sei come la notte, abbracciami forte Non riesci a dormire, mi vieni a cercare Se chiudo le porte, tu lasciarle aperte E mi vedrai Sono sola perché sola tu mi vuoi Sono sola perché sola tu mi vuoi Sono sola solamente quando vuoi Quando sono solamente fatti tuoi Sono sola perché sola tu mi vuoi Sono sola perché sola tu mi vuoi Sono sola solamente quando vuoi Quando sono solamente fatti tu mi vuoi Bello, mi piace davvero questo pezzo Solo tu mi vuoi Ragazze, aspetto il videoclip prima possibile però Era un po' che non lo sentivo Il videoclip volevo anche vedere prossimamente ce lo proporrete Sì, presto arriverà anche il videoclip E te lo faremo sicuramente avere, recapitare Magari chissà ci inviterai lì in trasmissione Lo faremo direttamente Insomma noi cantiamo il brano E dietro andrà il videoclip Bella idea, lo faremo sicuramente Ricordiamo che Potrebbe essere un'idea Ecco a proposito di idee È vero che c'è stata in qualche modo La mediazione di Eleonora Daniele La collega giornalista che ha avuto Questo lampo per questo progetto E voi vi siete buttate a capofitto Ricordiamo tra l'altro c'è anche Ilaria Galassi Che per problemi familiari Non è in collegamento con noi Diciamo che questa proposta è arrivata proprio da lei In un giorno quando eravamo ospiti Io e Pamela Ilaria E c'era anche Miriana Dove si parlava di argomenti appunto Di amore tossico Quindi si parlava di Femminicidi e quant'altro E lei Insomma verso la fine della puntata Ci ha fatto questa proposta E noi siamo rimaste un po' A bocca aperta Siamo cadute dal pelo come si dice E felicissime Abbiamo subito accettato Perché ci faceva piacere Perché lei ce l'ha detto proprio con tutto il cuore Che voleva fare questo progetto con noi E noi l'abbiamo fatto con tutte noi stesse E con tutto il cuore Quindi siamo felicissime veramente Di aver aderito a questo progetto E di portarlo avanti a testa alta Ecco Pamela avete Eleonora ha nominato anche Miriana Trevisan È vero che c'era anche lei nel progetto? Sì Avrebbe dovuto esserci Durante una puntata Dove siamo stati ospiti dalla Baligo Sì perché in realtà eravamo noi quattro Nel salotto a discutere E appunto a confrontarci su quello che era l'argomento principale Per cui l'amore tossico Da lì viene poi l'idea di Eleonora Daniele Che noi accettiamo Con molto interesse E anche trasporto Perché comunque l'argomento Oggettivamente A noi Insomma Ci ha dato la possibilità Anche di metterci noi proprio In gioco E la faccia Davanti ad un argomento così delicato Con una sensibilità Che comunque ognuno di noi dovrebbe avere Quindi quando diciamo noi Se volete ci scrivete Se volete dite Se volete contattateci Proprio perché spesso Per vergogna Uno tiene il dolore dentro E continua ad andare avanti Poi E chissà Ma E' un po' di questi drammi Tornando Anna Piana Ha detto Di Poi Noi Scrivete In chat Per impegni Suoi personali Non poteva Dispiacere Proprio A questo progetto Noi ovviamente Abbiamo La parola Di scelta Se no saremmo Contraddittori Con quello che abbiamo Detto fino adesso Uno deve crederci Nel progetto E deve volerlo Nessuno Forza nessuno Eleonora Daniele Ha dato il là Ci ha dato questa Grande possibilità Quindi secondo voi Secondo te Miliana Trevisan Ci siamo trovate Secondo voi Non ha condiviso Non conosciamo No noi non conosciamo Non conosciamo No 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 Inizialmente lei era entusiasta Devo dire Entusiasta Quindi probabilmente Non sapete il motivo Perché poi si è tirata indietro No assolutamente Neanche ci avventuriamo Nel senso che poi Ognuno di noi Decide per se stesso Qual è la sua strada In quel momento In cui ti viene proposto qualcosa Noi anche a noi Ci vengono chieste delle cose E decidiamo se farle O non farle In questo caso Ci sembrava una proposta Molto allettante E quindi abbiamo accettato Ragazze Da cantanti Quali siete Avete visto Sanremo Un giudizio Perché io mi sono fatto Tutta la settimana In collegamento Con la collega La Sanremo Quindi volevo sapere Anche la vostra Ed onora Guarda Diciamo che Vai Le Parti tu Parti tu Diciamo che Allora io l'ho visto Un po' Come si dice Qui a Roma Mozzichi e bocconi Sono sincera Però la vittoria Angellina Mango Allora lei Quando ha cantato Rondini Che per me è un pezzo Io lo adoro Quel pezzo Lo amo proprio E ho avuto La pelle d'oca Quindi sono molto felice Insomma Della sua vittoria Ci sono stati I santi francesi Che mi sono piaciuti Tantissimo Giudizio e critiche Di brani Non ne hai da fare? Come? Giudizio e critiche Non ne hai da fare? Se so Sui fischi A Joliet Allora I fischi a Joliet Allora Quello è una cosa Che secondo me Per rispetto Proprio non si dovrebbe fare Perché se parliamo Di rispetto Sono proprio gli adulti Che devono insegnare Giovani Insomma Joliet è un ragazzo Di 23 anni Che in qualche modo Stava cercando Di godersi la serata E quindi Questo non ha Dato sicuramente Non è stato Un buon Un buon Segno Un buon segnale Nel senso Che sono proprio gli adulti Che devono insegnare A non fare questo Agli adolescenti Invece Quell'hanno fatto Quindi Non mi è piaciuto Molto Quell'attivamento Ecco Ma Ma Sono sincera Sono sincera Io la Naturalizzata Non ha capito Perdonami Snaturalizzava La Kermesse In pratica Questo pezzo Partenopeo Diciamo Però Però Io Il mio parere Personale Poi Attenzione Assolutamente Questo È un mio parere Io la canzone Non l'ho capita E Come Ho capito La La Oddio Oggi Sono un po' Dislessica Aiutatemi Quei ragazzi Con le creste Fa sempre mille cose De un ora Così come Pamela Lo so che siete sempre Attive Lo dicevamo prima L'energia Dagli anni 90 È rimasta Proprio perché Vi muovete in continuazione Fate Tante cose Sì esatto Esatto Comunque Tutto sommato È stato un bellissimo festival Mi sono divertita tantissimo Quel poco che ho visto Perché sono sincera Quando non avevo Altre cose da fare Appuntamenti Diciamo così Lavorativi Alle nove e mezza Dieci Purtroppo Io crollo Non riesco a A A tenere gli occhi aperti Va bene Il giorno dopo Magari Ho un minuto Quindi volevo sentire Anche il parere di Pamela Allora Carissimo Io ho visto il festival Io non perdo mai Una puntata del festival Perché per me È un appuntamento fisso Da quando sono piccolina Che lo vedevo insieme Ai miei nonni E i miei fratelli Quindi siamo sempre stati Tutti uniti A vedere il festival Di Sanremo Poi ovviamente Sono diventata Mamma Moglie Quindi con la nostra Autonomia E libertà di famiglia Ci mettiamo lì E lo guardiamo sempre Ma perché diventa Proprio poi Un gruppo d'ascolto Quindi ci si diverte Anche a dare dei commenti Dei giudizi E devo dire Io ho trovato Un festival Con Secondo me Poche canzoni Sarremesi Sai quando noi Eravamo piccole C'erano le canzoni Sarremesi Che erano quelle Di quella melodia Un po' romantica Con una vocalità Un po' alla E poi di Giorgia Brava E invece Quest'anno Un po' troppo diverso Sono state Proprio per genere Proprio per genere musicale Molto pop Molto pop Canzoni per carità Orecchiabili Orecchiabili Però non mi aspettavo Non adatte Alla quale siamo abituati Non per il talento Perché è una ragazza Altro che talentuosa E solo la cover Che ha fatto del papà Mi ha fatto venire La pelle d'oca E davvero sì Però non mi aspettavo Parlo proprio del brano Che potesse vincere Un brano Come quello Che ha portato Angelina Pensate un po' Io avevo dato Avevo detto Il tuo voto a chi? Il mio podio Che era tutto al femminile E avevo detto Emma Amoroso E Bertè Per me questi erano I tre brani Che secondo me Erano quelli di Sanremo E poi ho avuto Diciamo Il mio preferito Ho avuto il mio preferito Che era Irama Che è Irama Che trova un artista Fantastico Con una vocalità Struggente Tant'è che la sua cover Con Cocciante Ci ha Bella Ci ha ipnotizzato tutti Che sono anche simili Se vogliamo vocalmente E poi vabbè Io mi diverto moltissimo Cioè Fiorello Ragazzi Io mi sono sentita male Cioè io quando è uscito Vestito da Manuel Il ballerino della Cuccarini Negli anni 80 Quando facevano Ha fatto presa anche su di te I brani dei festival Eh? Dicevo ha fatto presa anche su di te Allora Pamela Io sono Purtroppo è finito Il nostro tempo a disposizione Ma come sempre sapete Ma come sempre sapete Non mancherà occasione Di riparlarne Noi aspettiamo Il videoclip Del singolo Così possiamo proporre Anche quello Appena è pronto Con Eleonora Veniamo il primo treno E te lo portiamo Va benissimo Va benissimo Intanto su YouTube Ci sono già Sono partiti diversi Click Per ascoltare Questo brano Grazie Eleonora Censore Grazie Pamela Petrarovo Grazie a te Ciao Ele Ciao ragazzi Ciao Ciao a tutti Restituiamo la linea La rete Questo significa Che ci vediamo domani Puntuali 16.15 Con pomeriggio sud Canale 14 Antenne al sud Ciao a tutti Woohoo